In attesa di un decreto ad hoc, il governo prima presenta, poi ritira un emendamento con la proroga dell'invio delle armi a Kiev fino alla fine dell'anno inserito nel decreto nato contenente anche misure per il sistema sanitario della Calabria. La decisione è presa dopo le pressioni arrivate dalle opposizioni, ma anche all'interno della maggioranza, particolarmente sensibili al tema dell'invio delle armi. Nessun passo indietro si affretta a spiegare il governo che si dice pronto ora a lavorare ad un provvedimento specifico che potrebbe essere illustrato in Parlamento dal ministro della Difesa, Crosetto. E' arrivata invece la firma del Presidente della Repubblica, la legge di bilancio, un provvedimento che è salito a 174 articoli, confermati alla soglia 60 euro per il pagamento via posse quota 103 per andare in pensione. Viene mantenuto l'incremento del 50% dell'assegno unico, ma solo per le famiglie con tre figli fino al terzo anno d'età. Per il Presidente Consiglio Meloni la manovra non va stravolta in Parlamento e chiede la collaborazione dei partiti della sua maggioranza. Ma sulla manovra si dividono le opposizioni contrarie al Movimento 5 Stelle e PD, mentre il terzo polo apre al dialogo, oggi a Palazzo Chigi, l'incontro tra Meloni e Calenda. E' stato un incontro molto positivo, fatto nel merito dei provvedimenti. Abbiamo scorso le nostre proposte una per una. Ovviamente ci sono delle cose su cui assolutamente non siamo d'accordo, di cui non abbiamo neanche discusso.